A fine luglio dovevano partire lavori per la costruzione del sovrappasso che consiglierebbe di evitare i passaggi a livello per chi da Villanova e dal paese limitrofi deve raggiungere Cremona a Piacenza ma in un sopralluogo con il consigliere di minoranza Ezio Marocchi non troviamo tracce di cantieri di prossima apertura. Già con un'interpellanza fatta in regione a marzo sembrava che dovessero iniziare a maggio i lavori di chiusura dei passaggi a livello e della strada che eviterebbe ai cittadini di Villanova di raggiungere Cremona senza dover attraversare questi passaggi a livello ma ancora non si vede nulla. Noi come minoranza abbiamo fatto prima un'interpellanza al Comune in cui c'è stato detto che a livello di carte la cosa sta andando avanti, dovevano partire a fine luglio i lavori di ricerca eventuali ordini bellici propedeutici a questo progetto ma ancora non si vede nulla. Abbiamo fatto inoltre un'interpellanza all'assessore regionale Andrea Corsini ma ancora non abbiamo ricevuto risposte. Ben tre i passaggi a livello che vedete mappa con il palino giallo che verranno interessati dal sovrappasso atteso ormai da anni. Siamo un po' preoccupati perché dovrebbero sempre iniziare ma attualmente non si vede nulla. Sentendo l'amministrazione ci hanno fatto vedere un pacco di mail scambiate fra i progettisti e loro ma attualmente la cosa è così.